Allo stadio Scalzone di Casal di Principe si gioca Albanova-Barano, partita disputata con temperature rigide e primo tempo anche sotto la pioggia battente che in alcuni casi ha influito sulle condizioni del terreno di gioco. Le due squadre sono ben coscienti dell'importanza del match. L'Albanova ha la ricerca dei tre punti per tenere viva la speranza di acciuffare i play-off e il Barano invece deve vincere per cercare l'impresa di uscire dalla zona retrocessione. I padroni di casa partono subito forte per trovare la rete del vantaggio attraverso un gioco ben organizzato. Più volte riescono ad arrivare in area costringendo il portiere Mennella agli straordinari. Il forcing offensivo dell'Albanova viene premiato al 22esimo con la rete di Ciccone. Gli uomini in completo bianco-celeste costringono il Barano a difendersi e a giocare di rimessa. Il primo squiglio degli isolani arriva al 38esimo con cross dalla destra ma Matarese in area colpisce la palla di testa e la manda fuori. Allo scadere dell'unico minuto di recupero arriva il raddoppio dell'Albanova con Lepre. Termina dunque il primo tempo sul punteggio di 2-0 per i padroni di casa. La ripresa si apre con l'Albanova in attacco. Nei primissimi minuti a fallire l'occasione è bomber Pietro Pastore ma sono solo le prove generali per il 3-0 che arriva al quinto minuto e porta la firma di Ciccone alla sua doppietta personale. Da qui in avanti l'Albanova si limita ad amministrare il vantaggio e tirano anche il fiato approfittando del punteggio particolarmente ampio. Il gioco è molto spezzettato anche per via dei cambi eseguiti dai due allenatori. Intorno alla mezz'ora il Barano prova ad accorciare le distanze con una punizione di Desi subentrato ma senza successo. Al 38esimo arriva invece il colpo del KO con Basile che segna il gol del definitivo 4-0. Nel prossimo turno l'Albanova si gioca il sogno playoff in casa del Napoli United mentre per gli isolani lo scontro in casa contro la nuova Napoli Nord sembra essere l'ultima spiaggia.